Nonna, prego, mettiti accomodati là, io mi metto qui e partiamo! Mi è venuto in mente un po' di tempo fa di tirar giù un po' di intervista ai personaggi più importanti che hanno costruito l'azienda, quindi persone che lavorano da tanto, noi, perché voglio un po' tirarvi fuori quello che è stato un tempo e quello, ma anche le prospettive del futuro, no? E partiamo naturalmente con te, perché te sei stato il vero germogliamento di tua vita, riprendendo un po' quello che è il ciclo della pianta, no? Tu e Nonna avete dato il via a questa avventura, a questa azienda, probabilmente non era nemmeno pensata all'inizio una cosa del genere e quindi la domanda sorge spontanea, cioè come vi è venuto in mente a metà degli anni Ottanta di trasferirvi qua, di dare il via a questa cosa? Vabbè, non è che avevamo in mente di costruire un'azienda, anche perché a quei tempi, insomma, in Val di Cornia non è che il vino e le aziende fossero così importanti come sono oggi quindi abbiamo comprato questo terreno e questa casa, mezza di roccata, per il semplice fatto che tuo nonno è sempre stato un amante della campagna quindi voleva tornare alle sue origini, era nato in campagna e quindi il suo sogno era di venire qui a passare più che altro del tempo, no? non per fare un'azienda Sì, tipo la famosa terra, cioè il casolare di campagna dove uno ha un campino e fa l'orto dove magari fai un pochino di vino, fai un pochino di olio, ci passa il tempo perché poi lui era proprio fissato, cioè la prima cosa che comprò fu un trattore e quindi andava a muovere il terreno, mi diceva sempre, l'odore della terra che si muove, dice una cosa per me, era molto importante per lui, proprio l'origine, la campagna tanto è vero che noi in azienda c'è stata sempre una cura molto particolare per gli animali, questa è una zona dove viene fatto ripopolamento della selvaggina e quindi il tuo nonno era molto impegnato anche su questa cosa, cioè ci sono le lepri, ci sono i pagiani e quindi vai lui a mettere qualcosa che potesse contrastare con la natura è sempre stato molto in questo senso attento che non si sconvolgesse troppo il sistema sì, l'ambiente l'ecosistema, è una cosa che ci stiamo attenti anche parecchi, anche ora, cioè uno dei nostri focus è quello infatti quello che pensavo stamattina prima dell'intervista a te, di nonno è rimasto tanto nell'azienda secondo me cioè io mi ricordo da bambino che il mio gioco con lui è sempre stato andare, lui mi faceva vedere tutte le lavorazioni del legno lavorava il legno, poi sul trattore, sul muletto, io ci passavo le giornate con lui, cioè il mio gioco era quello era pochi per lui il gioco eh sì, però mi ricordo di un uomo molto preciso, molto meticoloso, con degli obiettivi, questa meticolosità in vigna e penso che le lavorazioni che facciamo ora sono la sua vera e propria eredità, cioè questa meticolosità che si è trasmessa via via anche di generazione e generazione nell'azienda penso sia uno dei suoi punti forti, ma fare il vino da dove nasce? Eh, fare il vino è successo che abbiamo trovato appunto in questo fodere, come foderi di una volta dove il terreno era coltivato promiscuo, no? nel senso che c'era un pezzettino di vigna, c'erano dei pezzetti di terreno a cereali, quindi grano e altre cose e poi c'erano due filari che dividevano questi pezzi di terreno di olivi quindi la campagna era antesa in quel modo, il vino come alimento, l'olio che serviva e il pane naturalmente e quindi noi quando siamo venuti c'era questa piccola vigna e lui si è subito appassionato perché c'era un po' di movimento assoverito, perché stavano costituendo un po' il discorso DOC e di conseguenza... Ci siamo arrivati poi, abbiamo rifondato poi ora... Sì, infatti c'era un movimento, anche perché poi è stato molto faticoso perché le vigne erano pochine quindi andare anche al ministero a chiedere un riconoscimento del genere per noi era sopia perché insomma veramente era una cosa proprio... la Valdicornia sul vino è cresciuta molto dopo, piano piano, con l'avvento anche di altre persone non soltanto delle persone del territorio dove appunto facevano del vino con vitigni tradizionali insomma il Sangiovese, il Trebbiano e quindi facevano il vino in damigiana Eh certo, noi subito invece alternativi? No, alternativi no, nel senso che prima abbiamo voluto capire in che mondo eravamo finiti nel senso che... Sì, sì, era una cosa diversa Era una cosa diversa, noi si veniva da un altro settore, si è voluto capire dove si doveva intervenire nel senso che ci sarebbe interessato fare del vino, ma del vino di un certo tipo non certamente per fare il vino in damigiana, non ci interessava quel tipo di... di sfida diciamo Sì, di sfida, ma poi anche a livello economico no, dice io compro questo terreno perché ci voglio rilevare sotto guadagni a noi non ci interessava quello, ci interessava appunto se doveva essere, doveva essere una cosa di un certo tipo si veniva un po' da un mondo imprenditoriale e di conseguenza la mentalità era un po' quella no? Di arrivare a fare un prodotto di... Sennò non ci interessava se sarebbe continuato a fare un pochino di vino per noi, un pochino di olio e basta ma insomma la spinta era parecchio forte perché era una sfida veramente no? Ci si aveva bulgheri vicino che già cominciavano a... C'era il Sassihaia che comunque... Sì, già cominciava quei tempi lì a venire fuori, perché non erano tempi tanto facili perché poi alla fine erano tempi dove poi si andò a finire nel metanolo quindi l'Italia fu parecchio... Sì, erano proprio quegli anni lì Sì, erano quegli anni lì, quindi l'Italia fu parecchio bacchettata anche questa cosa qui quindi sai, non era proprio... Sì sì, poi siamo ripartiti alla grande... Noi il giusto di notri e le prime bottiglie abbiamo prodotto nel 92 Sì Com'era fare il vino al tempo? Cioè a volte mi dici rispetto a ora però come partì questa voglia di fare questo grande prodotto? Con che mezzi? Anche perché i mezzi potevano essere proprio il vende garage Cioè mettere in piedi un'azienda a livello di imbottigliamento è molto costoso e naturalmente abbiamo fatto con mezzi che uno aveva nel senso che la cantina non c'era non c'era nulla praticamente quindi sotto l'appartamento c'era una stalla la quale l'abbiamo messa appunto nel senso che abbiamo sabbiato, abbiamo risanato tutto il pavimento e abbiamo fatto una cantina una cantina una cantina però c'erano tini e poi alla fine c'erano le bottiglie del vino quando l'abbiamo fatte c'erano qualche barricche perché si cominciava già a pensare di mettere il vino nelle barricche e di conseguenza c'era una grande confusione insomma poi piano piano, piano piano ci siamo attrezzati ma insomma è molto costoso mettere in piedi allora il 97 io ho imparato a camminare in quella che ora è la sala degustazione nostra e ho dei vari, vaghissimi ricordi delle barricche che arrivavano fino al soffitto fino al soffitto, sì sì e poi è venuto tutto dopo no? anche la costruzione della prima cantina e della seconda, la barriccaia quella di ora no? la prima cantina è stata fatta, è stata fatta quando sei nato te eh sì è stata fatta nel 97 quindi molti dei vigneti sono stati impiantati nel 97 quindi siamo partiti proprio un pochino più alla grande in quegli anni lì ma la passione, la passione per il vino, cioè un conto è, dici, voglio fare un grande prodotto mi devo un po' preparare, no? come erano quegli anni, cioè di preparazione al vino, di approccio al vino per fare con l'idea di fare un grande vino cioè l'idea come... è partita perché si voleva capire dove si doveva andare a parare per fare veramente un prodotto quindi quel momento lì, in quei mesi lì abbiamo conosciuto tanti enologi giovani che cominciavano a venire fuori e poi c'era tutto come ora eh erano tempi duri anche per i ragazzi che studiavano enologia e quindi lì abbiamo conosciuto Luca Luca che era un giovane ragazzo un ragazzo appena diplomato che scalfitava perché era molto ambizioso era molto interessato a questo mondo nuovo perché poi era nuovo tutto sommato era proprio all'inizio e abbiamo conosciuto Luca e con Luca il tuo nonno ci si è trovato subito bene perché il tuo nonno era una persona molto ambiziosa molto... che sperimentava di continuo avrebbe voluto fare tante cose e quindi questo giovane gli ha dato la spalla per farle certe cose quindi gli ha cominciato a dire andiamo a Bordeaux andiamo a vedere gli impianti stretti che fanno là andiamo a vedere le macchine che adoperano loro e sicché siamo partiti insieme proprio a Luca e a un rivenditore che fra l'altro ci serviamo anche ora che... la pelle, volentieri pelle e quindi siamo andati a Bordeaux e abbiamo conosciuto, ci ha fatto conoscere Mister Bobard che è la macchina scavallante che abbiamo adoperato fin dall'inizio da quando abbiamo cominciato a piantare i vigneti stretti e da lì che viene l'idea cioè da quando avete visto quegli impianti lì avete detto subito facciamo le macchine a noi perché poi il tuo scopo era veramente fare dei vigni bordeaux nel senso che andare a piantare vigni nuovi e non il San Giovese il San Giovese o il Trebbiano e quindi abbiamo visto come erano state fatte le vigni a Bordeaux e di conseguenza praticamente le abbiamo scopiazzate siamo rimasti colpiti anche dalla bellezza di quei luoghi perché alla fine se vedete ora in cima ai filari delle viti le rose è perché quando siamo arrivati a Bordeaux io specialmente sono rimasta incantata da questo spettacolo di questi vigneti con tutte le rose sì che di conseguenza abbiamo cominciato abbiamo acquistato la macchina la Bordeaux e ancora non avevamo i vigneti perché l'abbiamo piantato cioè avete comprato la macchina senza averci vigneti sì, no, subito dopo è venuto tutto, ho capito perché se facevi questi vigneti stretti bisognava trovare sempre la macchina a propriazza di conseguenza insomma non è che è stato proprio un periodo è stato un investimento importante è stato un investimento importante insomma una macchina del genere un investimento azzardato azzardato, criticato invece appunto si torna al discorso delle sfide il tuo nonno gli piaceva sfidare queste cose sì ce lo vedo e poi alla fine ha avuto ragione lui perché poi è stata una grande curiosità intorno alla nostra azienda così piccola ma così curata così con queste cose così innovative che effettivamente abbiamo ancora visto anche molto quindi è stato anche un bene è un bene, un bene e appunto il Merlot, avete piantato il Merlot poi c'era il Sangiovese e già c'era comunque noi la seconda vigna abbiamo piantato nel 1997 in concomitanza alla Nuova Cantina con la Bobarde ma prima nell'88 noi abbiamo piantato il Merlot quello di Vigna Vecchia quello del Re di Gaffi 7 sì 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 e quelli erano piantati come sempre non erano impianti stretti erano impianti ma sì sì è rimasto uguale quella a tre metri sì l'impianto stretto poi la sfida a te una volta mi dicevi no che la gente passava di qua e appunto anche riprendendo un po' il discorso dell'attenzione che c'era su Tuaita la gente passava di qua e pensava e si piantasse l'insalata no sì perché prima cioè noi abbiamo comprato le prime le prime viti dalla Francia quindi è stata una cosa spettacolare per la zona no perché è arrivato questo rivenditore di viti della Francia barbatelle insomma delle barbatelle e con delle macchine che piantavano la vigna capito? era una macchina con un lancer no che qui non avevamo mai visto e quindi piantavano tutte queste piantine passavano aprivano il terreno il terreno naturalmente è stato lavorato prima e poi ci buttavano sempre con questa macchina la barbatella poi ci buttavano un po' d'acqua e poi ricoprivano e poi andavano si chiede la gente dice ma cosa piantano? perché poi quando cominciò a germogliare sembrava veramente dell'insalata sì 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 tutte piantine piccoline tutte vicine tutte piccoline basse tutte vicine sì sì senti l'annata tornando a diciamo al passato ma è un argomento attuale anche partire negli anni 90 no? con un clima diverso anche quello che abbiamo ora sotto tutti gli aspetti però diciamo farsi l'esperienza sulle varie annate no? adesso abbiamo un'esperienza di circa 30 anni al tempo cioè le prime annate di difficoltà quali sono state? cioè le prove che avete dovuto superare così a tatto diciamo sai a quei tempi il clima era molto diverso eh oggi come oggi non si sarebbe potuto lavorare come si lavorava a quei tempi perché con la macchina scavallante noi abbiamo comprato anche subito per cimare le viti no? quando germogliano quindi la tecnica era quella di cimare in continuazione di fare delle siepi perché poi effettivamente sembrava un giardino no? non ricordo oggi come oggi è impensabile infatti dopo tutti questi anni non c'è più il tuo nonno se tornasse forse non si scandalizzerebbe ma insomma perché siamo tornati proprio all'origine no? anche nella piantagione nel senso che ora affastelliamo non cimiamo più perché la pianta deve essere quindi il grappolo deve essere coperto dall'insolazione sì perché c'è troppo caldo di conseguenza è cambiato completamente prima si faceva per esempio una selezione sulla pianta si lasciava un grappolo soltanto perché ci doveva essere questa concentrazione con il vino oggi è tutto diverso tutto è cambiato è cambiato tutto insomma è cambiato il clima di conseguenza però le sfide sono rimaste cioè l'esperienza adesso abbiamo la sfida inversa no? no ma il primo approccio al caldo fu il 98 forse come annata calda che mi ha fatto rendere conto bene che il clima stava cambiando no? certo il tuo nonno infatti che il clima stava cambiando l'ha percepito subito potrebbe sembrare quasi mamma mia allora questo cosa che persona era però noi abbiamo questi invasi se abbiamo cominciato a mettere l'irrigazione alle viti è perché già si prevedeva a quei tempi che il clima cambiava perché ci si accorgevano dopo anno che le cose cambiavano ci siamo accorti che poi alla fine queste scimmature così estreme non andavano bene perché effettivamente ci si accorgeva le piante non avendo tanta foglia soffrivano quindi c'è stato via via un cambiamento anche proprio importante Annate calde ma ci sono io lo dico sempre anche in cattiva ragazzi prima o poi l'annata dove piove nel ciclo delle annate prima o poi la ribecchiamo qual'è stata l'annata invece l'annata fresca per eccellenza qual'è stata? ma sai l'annata fresca per modo di dire perché anche il 2002 è stata un'annata incredibile è rimasta nella storia per la pioggia per il clima però è anche vero che non era che era cominciato così presto questa pioggia fino a luglio il clima era un'estate normale poi dopo è cominciato e non smetteva più di piovere quindi per noi è stato molto faticoso per fare vendemmia al tempo è è stato incredibile insomma vendemmiare con quella stagione lì quindi noi si stava costruendo ti voglio raccontare questa cosa si stava costruendo la cantina ora sotterranea quindi c'erano tutti i lavori con questi mastodontici perché poi era stato fatto uno scavo nosevole qui davanti poi c'erano tutte queste cupole queste colonne che venivano con dei trasporti internazionali e quindi si stava ultimando questa copertura di questa cantina sotterranea e che costruiva e aveva portato delle macchine per asciugare per asciugare giù sotto e mi ricordo che i figli del Merlot che erano ormai la cosa più preziosa per noi si stavano vendemmiando ma si vendemmiava fra una cosa e un'altra e invece proprio in mezzo che si era quasi finito di vendemmiare cominciò a piovere ma forte e poi bagnò tutti questi cassetti che erano fuori con l'uva con l'uva e quindi si portò su insomma, si era disperato perché effettivamente era raccorto ormai andato invece fortunatamente con questa macchina abbiamo preso delle stoie è anche vero che c'era poco prodotto si poteva fare perché non è certamente come oggi sarebbe stato impossibile ma avendo una cosa così certosina così limitata abbiamo steso tutti questi grappoli e su queste stoie e poi con questa macchina che asciugava e quindi si è potuto fare lo stesso il prodotto cioè avete asciugato i grappoli dopo la raccolta dopo la raccolta poi li abbiamo rimessi nelle cassette poi li abbiamo rimessi nelle cassette un lavorone si infatti si è lavorato in un modo proprio estremo si erano lavorazioni estreme mi ricordo le vendemme a volte si parla anche tra di noi erano delle vendemme pesanti pesanti perché poi non c'era mai un orario poi oggi come oggi abbiamo tanti strumenti perché insomma i mezzi poi sono venuti nel senso che abbiamo potuto comprare più macchine a tempi che quando stavo in cantina insieme agli altri anch'io ci serveva una pompa sola e di conseguenza con tutti i rimontaggi che venivano fatti anche quattro al giorno ti dovevi prendere questa pompa e passare da tutti i vestiti che c'erano e poi quando avevi finito da una parte dovevi ricominciare da quell'altra perché quindi c'era tutti questi rimontaggi era continuo tutto il giorno era continuo oggi sono dei signori oggi siamo dei signori c'è quel rimontaggio al giorno è sempre faticosa la vendemmia ma insomma è diversa è una vendemmia sono vinificazioni meno estrattive cioè al tempo noi abbiamo dei macchinari più la tecnologia ci viene sempre incontro anche se non è mai stata un'azienda a parte vi raccontavi della prima Bobard è stata un'azienda comunque tecnologica tecnologica sempre tutto quello che c'è stato di innovativo il tuo nonno non ti preoccupare è l'ombra no perché sicuramente era una persona che pensava molto anche al futuro tant'è che voglio riprendere un po' questo discorso quando vado in giro mi dicono sempre ma il Syrah in Toscana sulla costa è difficile di solito pensano a quelli magari di Cortona cioè sulla costa in effetti ora è diffuso ma il nostro Syrah fu il primo quindi non solo a livello tecnologico era una persona avanzata diciamo lui voleva anche stupire perché gli piaceva tanto il Syrah a lui poi non mi è mai no è stata sempre una scommessa del tuo nonno perché il Syrah noi quando abbiamo piantato le vigne dopo perché poi ci siamo allargati naturalmente abbiamo cominciato a sperimentare anche altri vitigni quindi fra questi anche il Syrah erano 7-8 filari di questo Syrah e vinificarlo da solo era un grande rompimento di scasole nel senso che ti importava c'era poca uva sì ma poi i Sini non erano adatti per queste piccole vinificazioni quindi c'era un bel ammattimento sicché il tuo nonno sempre perché è un bello testone un anno dice no no si vendemmia da solo e come si fa? perché poi l'ha vinificato lui no no di soltanto ci penso io è preso un sempre pieno che è un tino che non è sicilato in cima sì sì e di conseguenza si alza e si abbassa a un volume variabile per controllare la vinificazione che non esplodesse in troppo calore che ti brucia tutti i profumi e tutto quanto lui aveva preso delle bottiglie e poi aveva messo tutto un congegno intorno a questo sempre pieno per far sì di vinificare questo piccolo quantitativo di uva capito? e quindi fu testardo questa cosa qui ma ci penso a lui ecco e di conseguenza quando si arrivò poi a imbottigliarlo mi ricordo quell'anno lì si fece soltanto le magnum un lì e mezzo perché venne pochissima cosa e di conseguenza venne abbastanza buono nel senso che quell'anno lì quando si imbottigliò questo Sirà si fece una verticale di reddigaffi a Gambero Rosso a San Vincenzo da Fulvio per Angelini si era amici si si veniva si andava sempre veniva qui e si fece questa verticale insieme a Cernilli Cernilli no era il Dr. Wine e il tuo nonno portò anche una magnum di questo Sirà perché dice io lo voglio far assaggiare a Cernilli infatti venne aperto anche questa magnum lui sa sempre un po' così dice il tuo nonno ma questo Sirà ho fatto però non lo farò più perché avevano cominciato a mettere anche altre persone anche altre aziende questo Sirà a lui gli garbava no voleva sempre essere quello solo e faceva una cosa e dice non lo farà più perché tanto dice ora lo fanno tutti e dice io continuo a fare io questo vino e mi ricordo che Cernilli lo degustò lo veniva anche al servito a pranzo e gli disse al tuo nonno dice guarda continua a farlo perché lo fanno in tanti ma come questo non l'avevo non l'ho mai assaggiato e di conseguenza ecco continuato poi si è piantato delle altre vini insomma e quindi ora viene fatto un po' di più ci si fa due etichette diverse sì beh la storia del per sempre anche in giro è sempre affascinata di questo legame c'è stato tra lui e questa varietà è incredibile infatti gli si è dedicato un po' anche il nome del vino perché indubbiamente è legato molto a lui come personaggio insomma certo certo ma nel cambiare poi l'azienda l'azienda è diventata man mano sempre più grande è entrato mio padre che sviluppava i mercati come 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 vi è cambiata da da sotto le mani l'azienda cioè da quando siete partiti no? che che avete approcciato primi importatori la Winebo di Locascio oppure Licata anche Calogero Licata eh sì sono rimasti i nostri importatori da tanti anni dall'inizio infatti tanti sì poi è cambiata un po' sotto le vostre mani l'azienda cioè come ora comunque esportiamo lo so bene perché ora parto faccio sto mega giro e ora serviamo circa 90 paesi prima erano pochi mercati quindi c'era magari una poca percezione del vino eh sul mercato e questi importatori hanno l'hanno vista lunga com'è stato? eh vi è cresciuto un po' tutto all'improvviso e com'è stato incontrare voi che venivate da da un'altra da un'altra esperienza com'è stato incontrare gli importatori cioè questi importatori che poi sono rimasti storici per noi lo sai bisognavi fare un passettino indietro nel senso che noi siamo stati anche tutto sommato fortunati perché siamo usciti in un momento dove veramente il vino ricominciava a vivere in Italia tant'è vero che se si prende i nomi dei vini che partecipavano al gambero rosso per i tre bicchieri in zona considera che c'era il sassicaia l'ornillaia il guadaltasso il gratamacco e quell'anno lì anche noi con il giusto di nostri quindi considera un pochino la zona del volgherese che era veramente molto più avanti di noi e la val di conia invece non esisteva quindi questo vino introfolato in questi cinque vini che andavano a finire su questa degustazione che venne fatta su a Castagneto fu una cosa veramente importante per noi perché quell'anno lì il giusto di nostri prese tre bicchieri subito e fu un tant'an perché erano talmente pochi vini in quel momento lì specialmente sulla costa che veramente fu veramente un tant'an di questo vino tutti si incuriosirono perché dicevo che è questa azienda quando andarono era una degustazione cieca si trovarono questo vino e dicono ma che è questo capito? perché era veramente una cosa considerate c'erano duemila bottiglie vero? in tromaggi la sapotevi far mai con vino che ci sapeva e di conseguenza avendo preso tre bicchieri andavi alla presentazione di questi tre bicchieri e in quell'occasione lì c'erano gli importatori Leonardo Locascio probabilmente rimase colpito da questa piccola azienda da questo vino che mi telefonò e mi disse guardi io sto andando a Roma per riprendere l'aereo per andare a New York e dici passo a trovarvi quindi sapevo che dovevano venire io qui naturalmente non c'era niente perché l'azienda è stata costruita pezzetto per pezzetto arriva questa macchina io mi ero messa su quel cancelletto che c'è qui fuori arriva questa macchina passa sfriccia velocemente davanti a me e va a finire fino lassù in cima a Monte Peloso chi sarà? chi non sarà? no io erano loro però loro proprio mi avevano considerato perché praticamente si immaginavano venendo dal Chianti da tutti questi posti video trovare un casolare molto bello oppure un castello una cosa del genere insomma e qui invece c'era quasi nulla c'era nulla quando sono tornati indietro l'ho fatti entrare giù nella cantina che ci sapeva poi c'era un mobiletto un tavolo con tutte le scartoffie sopra un macello insomma questo uomo quando entra era con la sua segretaria rimane un po' chissà cosa si aspettava di trovare però insomma i vini li fiacquero molto e di conseguenza è nato il rapporto perché poi lui lo racconta sempre a tutti che io il vino non glielo ho voluto dare dice ma questa è matta racconta sempre no? pensate un po' dice che un importatore americano va lì gli chiede il vino gli altri aziendi avrebbero fatto qualche parte per avere questo importatore e invece io gli disse no guardi il vino non glielo posso dare perché è talmente poco che figuriamoci e quindi lui ci ha fatto la corte più un po' perché mi ha risentato subito ah no? dopo un po' di anni? no un anno dopo probabilmente un pochino di qualcosa sì 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 ma perché era una cosa per me impossibile perché a quei tempi il tuo babbo non era ancora entrato in azienda io ero io e il tuo nonno e basta ma poi il discorso in America cosa facevi? ci vuole le le contrasichette tutte in inglese per me diventava un lavoro figuriamoci non è entrambi capito? perché ancora non c'era l'idea no c'era assolutamente l'idea e i vini poi avete già avete pensato dall'inizio di fare più vini o era partito tutto con un bianco e un rosso penso? no più vini perché sempre per discorso di sperimentare perché le due barricche per vedere come veniva il merlot poi la vinificazione del sirap insomma c'è stata sempre una serie di sperimentazioni che poi hanno portato a fare più vini il re di gaffia anche doveva essere cioè è partita una sperimentazione ecco sì si lascia essere du barricche vediamo cosa viene fuori du barricche erano il primo anno sì du barricche sono 600 bottiglie a chi le davi sicuramente a nessuno un po' lo dovevi fare assaggiare quindi un po' si perdevano negli assaggi anche ora anche ora è difficile gestirle pensate il volume naturalmente è più grande però è sempre un vino non so poi a quei tempi era veramente esploso il vino invece avuto il vino a quegli anni lì veramente uno si arricchiva perché era una forza proprio io dovevo mettere un sacco di scuse per un termino alla gente mi ricordo che una volta c'era in ufficio in ufficio negli uffici vecchi avevamo e te stavano passate cinque o sei persone ti avevano una bottiglia e ti è andata ma nessuno finito finito non ce n'è più va bene dai abbiamo fatto è passato 40 minuti quindi vabbè grazie e e va bene lo faremo un'altra volta perché ci sarebbero tante cose da raccontare eh no le cose da raccontare ce ne è una marea poi facciamo le racconte anche agli altri anche agli altri scusa eh va bene vai grazie grazie a tutti